Siamo a Berceto, abbiamo appena finito di caricare un camion di roba destinata ai terremotati poveretti dell'Emilia-Romagna. La roba è stata raccolta qua nel comune di Berceto e adesso abbiamo caricato qua a Berceto. Poi ci sposteremo anche a Ghiare perché loro veramente hanno fatto un grosso lavoro e quindi completeremo il camion di roba da portare a questa povera gente. Oggi ci sposteremo nel comune di Fossoli, che è una frazione di Finale Emilia, dove ci siamo messi in contatto col parroco del paese, Don Roberto, il quale poi ci accompagnerà in numerose case sparse dove non sono raggiunte quotidianamente dai soccorsi e provvederemo a lasciare molti prodotti sia di prima necessità che di svago per i bambini, vestiti per i bambini e tutta roba che può essere utile in questi giorni di disagio per questa popolazione. Noi dobbiamo innanzitutto ringraziare la popolazione di Berceto, il comune di Berceto che ha aiutato per la raccolta di questi prodotti. Noi partiamo con voglia di far bene e cercheremo di portare la nostra solidarietà a queste popolazioni. Ringraziamo anche la comunità di Ghiare che anche lei ha collaborato per la riuscita di questo viaggio per aiutare un po' di gente e quindi noi speriamo di dare il nostro contributo. Poi quando saremo là ci metteremo in contatto e sicuramente si avranno bisogno anche nei prossimi mesi e noi inizieremo un gemellaggio con queste popolazioni e sicuramente non le lasceremo sole nelle nostre possibilità. Sicuramente eviteremo il corrente della giornata. Vi ringrazio e buona giornata a tutti.